Buon sabato a tutti, ben trovati, questo è il weekend di tra parentesi, ogni fine settimana su Pavia 1 TV e Lombardia Live 24 raccontiamo i temi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, cercando di trarne qualche spunto di riflessione, condivisibile o meno. Voi come sempre potete suggerirci gli argomenti, potete anche dirci la vostra, per noi è molto importante, stiamo anche studiando il modo qui nella nostra piattaforma per accentuare, rendere ancora più evidente questo confronto di opinioni che avviene tutti i giorni tramite le coordinate che la regia ci propone in sovraimpressione. Oggi vorrei con voi parlare del Papa, l'ho già fatto in questi giorni, lo so, ma trovo che in quest'ultima settimana davvero uno dei protagonisti assoluti dell'attualità sia stato Papa Francesco, che non soltanto ieri era presente al G7, per lui è stata una giornataccia, ha dovuto tenere ben dieci incontri bilaterali dedicato all'intelligenza artificiale che era poi il tema principale sul quale è stato chiesto anche il suo contributo insieme ai grandi della Terra. Perché ieri mattina, prima di partire alla volta della Puglia, il Pontefice ha ricevuto in Vaticano poco più di un 200 comici, artisti provenienti da tutto il mondo, c'era WP Goldberg, c'era per esempio Jimmy Fallon e anche tanti tantissimi comici italiani. È la prima volta, pare, che un pontefice decide di creare una giornata di incontro per tutti i comici, anche quelli se volete meno ortodossi, lo metto tra virgolette, uso questa espressione senza alcun tipo di riferimento religioso, perché c'erano personaggi che spesso hanno una comicità ruvida e che quindi un po' stride rispetto al contesto in cui questa cerimonia di incontro è avvenuta ieri nelle stanze appunto dello Stato Pontificio. Penso per esempio a Luca Ravenna, che è un giovane attore emergente, lo metto anche questo tra virgolette, perché se per esempio ci sentissero i più giovani si arrabbierebbero molto per questa definizione, ma vi posso citare Luciana Ritizzetto, che è sicuramente un comico di grande successo, una comica di grande successo, ma che molto spesso nei suoi monologhi usa anche parole un po' fuori dalle righe. Ebbene, c'erano tutti questi personaggi, e anzi lei è stata protagonista perché ha recitato una preghiera iniziale di buon auspicio nei confronti della comicità, ma la cosa molto bella, lo state vedendo in questa inquadratura che la regia ci ha proposto, ma la cosa molto bella è stato il messaggio che è emerso. Io non so se voi avete visto le varie interviste televisive che sono state rilasciate al termine di questa udienza decisamente particolare, ma i più emozionati, i più divertiti, erano i più comici, ma papà Francesco è più comico di noi, è più divertente di noi. E la cosa che a me ha colpito particolarmente poi, entriamo nel vivo del messaggio che con voi vorrei condividere, è quello che ha detto proprio Bergoglio, celebrando l'importanza della risata, dicendo quanto in momenti difficili come questi riuscire a strappare un sorriso significa alleviare un animo dalle tante preoccupazioni, dall'angoscia, da quella cappa di pessimismo che purtroppo invade, pervade la nostra comunità in questo periodo. Ha detto addirittura il pontefice, far ridere significa in qualche modo far ridere anche Dio, e ha ricordato come da sempre la comicità abbia un altro valore, che passa in secondo piano rispetto alla risata, che forse è la più esteriore delle manifestazioni del successo e dell'efficacia di un intervento comico. Si ride, scatta l'applauso, il comico ha raggiunto il suo obiettivo. Ma no, perché dice Papa Francesco, l'umorismo, che lui definisce una grazia in tempi bui, è anche un modo per cementare le culture, per spingere alla riflessione, è anche un modo per sviluppare senso critico. E in effetti, se ci pensate, i comici, soprattutto quelli che fanno satira, da sempre hanno nel loro DNA l'obiettivo di farci ridere del potere, metterlo alla berlina, ma anche in qualche modo indurre l'ascoltatore a riflettere. Meraviglia la comicità. E non stupisce che ieri proprio il pontefice abbia voluto dedicare a questi personaggi, tra quelli italiani avrete visto sicuramente, beh, c'era Lino Banfi, c'erano tanti altri, Pio e Amedeo, che hanno fatto un selfie col Papa e poi hanno detto che è stato il Papa a chiederlo. Cioè, davvero, si sono rotti tutti quei cerimoniali che di solito si pensa siano rigidi e da rispettare quando si ha il cospetto del Santo Padre. E questo, secondo me, esalta ancora una volta la grande umanità di questo pontefice, che ha la capacità, io penso davvero, di dare l'idea del sentire tutti, in qualche modo, protagonisti accolti per quello che possono portare, per l'esperienza che possono raccontare, per il ruolo che possono avere nella società italiana. C'era Alessandro Bergonzoni, c'era Luca Bizzarri, c'era, beh, Giacomo Poretti, di Aldo Giovanni e Giacomo, c'era anche Michele Laginestra, che è un comico che ha fatto molto teatro, fa anche molta televisione, sta preparando, tra l'altro, uno spettacolo comico sugli apostoli Pietro e Paolo, e diceva questa cosa che mi ha molto colpito. Francesco è riuscito in un'impresa a riunire artisti improbabili che non ti saresti mai immaginato in Vaticano. Portare il sorriso laddove si soffre è una cosa molto importante, ha detto il Papa, ma soprattutto favorire la nascita di uno spirito critico, permettere alle persone di riflettere, magari di ritrovarsi affini per le proprie idee. Ecco, oggi nel nostro paese soprattutto trovo che i comici si stiano progressivamente sostituendo a un certo modo di fare informazione, di dare le notizie. Ormai il modo di dare le notizie in Italia è molto appiattito, salvo rare eccezioni, voi fateci caso, questo è un esercizio che da anni in realtà io consiglio a tutti coloro che incontro di fare, guardate i servizi, ascoltate quello che dicono i giornalisti in televisione, alla radio, ormai si usano quasi le stesse frasi e non è soltanto perché, ve lo posso svelare, le fonti di un giornalista laddove non è protagonista in prima persona di un fatto che può essere le agenzie di stampa, le agenzie di stampa quelle sono, se un lancio di agenzia viene copiato, mettiamolo tra virgolette, tra varie redazioni, è ovvio che ci sia anche un'assonanza di parole, di espressioni e di costruzione del servizio. No, è proprio secondo me un appiattimento che deriva non da chissà quale regia occulta, ma credo dal fatto che forse molto spesso chi fa informazione è stanco, è sfiduciato, è a sua volta bisognoso di maggior attenzione, di maggior valorizzazione, allora quando subentra la sciatteria, quando subentra la routine, si finisce per fare un'informazione piatta, a scuola si direbbe fai il compitino e tant'è. Papa Francesco invece io credo abbia evidenziato un aspetto molto importante, che dalla comicità molto spesso noi troviamo spunti per leggere l'attualità. Certo, attenzione, poi ogni comico ci mette del suo per far ridere o anche per orientare il pensiero della platea, ma diciamo la verità, io molto spesso mi sono stupito di come comici tipo Maurizio Crozza siano in grado di mettere insieme episodi non necessariamente della strettissima attualità, ma che in effetti hanno un filo logico che nel suo lavoro di tessitore emerge con maggiore efficacia, maggior chiarezza di quanto non accada molto spesso nelle televisive fatte dai giornalisti, nei servizi scritti dai giornalisti. Vi ho citato Crozza, vi potrei citare tanti altri comici, che davvero hanno il potere di far ridere, sì, ma poi di far emergere elementi che danno all'ascoltatore un briciolo in più di consapevolezza. È stata una giornata molto bella, alla quale io immagino affideranno molti ricordi, ancoreranno molti ricordi i comici che erano presenti e all'idea dello stupore di ritrovarsi di fronte a un personaggio brillante, Christian De Siga, per esempio, caspita, mai più simpatico di noi, credo che questa giornata abbia lasciato un po' di allegria, un po' di gioia anche in tutti coloro che ne hanno letto o visto le ricostruzioni televisive. Hanno dato dignità a una professione che fino a qualche secolo orsono non avevano anche il diritto ai sacramenti, perché i comici erano considerati dei reietti. Pira a tutti noi che talvolta ridere fa bene all'anima, fa bene allo spirito, ma è anche un modo per essere più consapevoli del mondo che ci sta intorno. E questo credo che sia una grande ricchezza in questi tempi così avari di soddisfazioni e di spunti per sorridere. Torniamo domani, buon sabato a tutti! Torniamo domani, buon sabato a tutti! Sì,